Non va più via l'odore del sesso che hai addosso Si attacca qui all'amore che posso, che io posso Io sono una persona molto particolare, riesco a essere me stesso, a essere quello che sono veramente solo con le persone che se lo meritano Grazie a tutti Grazie a tutti